Si chiama Brooke Evelyn Lucas, è una donna di 26 anni di età di Perth, la quale avrebbe provato a far ingerire al bambino il liquido detergente attraverso uno dei tubi che gli sarebbe stato inserito. In buona sostanza la donna in questione avrebbe provato a far fuori il figlio che purtroppo era gravemente malato, di 13 mesi di età. Pensate che il bambino era nato con una gravissima malformazione anche se non vengono date specifiche informazioni sul corretto o meglio sul completo stato di salute. Una malattia che però avrebbe reso già altri piccoli problemi, sempre a livello di salute ovviamente, ancora più gravi, ancora più incisivi. Sarebbe stato ricoverato il bimbo in questione per una bronchite, sarebbe stato dimesso dopo qualche giorno con la promessa che la mamma si sarebbe dovuta prendere cura di lui stesso. Ma come ci informa il Daily Mail, il bambino sarebbe stato soccorso in tempo, portato di nuovo in ospedale dove la mamma sarebbe stata querelata per tentato omicidio creato in piena regola. La 26enne starebbe affrontando il processo a suo carico che l'avete imputato in questi giorni di tempo, a quale si sarebbe però presentato in lacrime e avrebbe detto di non aver avuto alcuna intenzione di far fuori il bambino. Tuttavia, anche se in gravissime condizioni, il bambino è vivo e adesso verrà fidata a qualcuno che effettivamente potrà prendersi cura di lui stesso. Vi ringrazio per l'ascolto, anche ciò accade nel nostro amato pianeta, la Terra, terzo in ordine di distanza dal Sole. Iscrivetevi se viva, commentate, un salutone al prossimo video dal narratore italiano.